Buongiorno, bentrovati, buon inizio di novena in preparazione alla festa liturgica di San Pio. Un tempo importante per tutti noi, per tutta la famiglia legata a Padre Pio da Pietrelcina ed è un momento questo speciale per la nostra programmazione. Come avete avuto già modo di vedere abbiamo iniziato in modo diverso queste nostre giornate così intense e proseguiamo con ulteriori spazi dedicati a delle tematiche che vogliamo riprendere dopo la pausa estiva. Nella scorsa stagione televisiva infatti abbiamo avuto tanti momenti di approfondimento interessanti, importanti e tra questi sicuramente un posto di rilievo ha avuto il nostro verso gli altari, il programma dedicato alle cause di beatificazione e canonizzazione, alle tante cause che vedono tantissime figure di tutti gli strati sociali in un percorso che porterà, in alcuni casi ha già portato, in altri speriamo anche nel più breve tempo possibile, porterà agli onori degli altari la loro esperienza di vita. Abbiamo avuto l'opportunità, grazie a Fra Ezio Varvara, davvero di vivere dei momenti intensi anche di fronte a testimonianze di vita che ci hanno toccato profondamente il cuore. Personalmente non posso che non far riferimento alle figure soprattutto più giovani, di giovani laici come ad esempio Matteo Farina, a Chiara Luce Badano, per fare soltanto dei nomi che nella sofferenza hanno dato una testimonianza davvero forte. E questo tema sarà un po' il leitmotiv della nostra puntata perché nel giorno che la Chiesa dedica all'esaltazione della Santa Croce torna ad essere fondamentale un percorso di riflessione su queste tematiche. Ma vi dicevo un po' di quello che è il punto che abbiamo sospeso a fine maggio e che adesso riprendiamo per continuare la nostra programmazione. In questo c'è un dato. Abbiamo più volte parlato nel nostro programma come di una vera e propria scuola d'amore. Queste sono le parole che Fra Ezio ha spesso utilizzato nel presentare questo appuntamento. E allora voglio approfittare per una breve sintesi, uno stralcio che un po' in un certo senso riassume proprio il significato di quanto abbiamo detto finora e anche l'obiettivo che riprenderemo con la nuova stagione televisiva. Allora vediamo questa sintesi in video che ripercorre appunto i momenti culminanti di questo nostro percorso. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. Pio, dietro le orme di Gesù Cristo. Parleremo allora nel dettaglio di questi aspetti forti, aspetti di spiritualità legati a Fra Modestino subito dopo una breve pausa. Ed eccoci qui nuovamente insieme allora per iniziare la nostra riflessione su questa straordinaria figura Fra Modestino Fucci da Pietrecina. Abbiamo ospite in studio Fra Nazario Vasciarelli, un volto noto anche nell'ambito della nostra rubrica proprio perché spesso ci siamo occupati di Fra Modestino così come nel caso di Fra Matteo D'Agnone abbiamo avuto Fra Antonio Tartaglia e che ritroveremo ovviamente anche nel corso della prossima stagione televisiva Padre Mariano Di Vito per Fra Daniele Natale, Padre Aldo Broccato per Padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi. Tante figure queste di Cappuccini che ci portano innanzitutto alla mente l'umiltà, questo tema così importante che ci riguarda tutti da vicino e oggi coniugato alla sofferenza appunto grazie alla figura di Fra Modestino Fucci. Dicevamo allora Padre Nazario Fra Modestino un esempio per tante persone che lo hanno incontrato, per il suo senso di accoglienza, di apertura verso il prossimo e per la preghiera. Fra Modestino nei 40 anni dal 69, subito dopo la morte di Padre Pio che è arrivato qui nella portineria di San Giovanni Rotondo con un ruolo molto umile, molto semplice, quello di portinaio telefonista. Lui ha avuto l'intelligenza, ha saputo cogliere l'ispirazione dello Spirito Santo per crearsi un ruolo, cioè la portineria si può vivere in mille modi, però lui l'ha vissuta, ecco che belle foto, che è l'immagine questa, questa di Fra Modestino nel suo luogo dove si è santificato. Lui accoglieva, mandava i tanti pellegrini ai confessionali, indirizzava le anime soprattutto a Dio, il suo sorriso faceva molto e poi quello era ciò che noi vedevamo. Io ho avuto tra le altre cose il piacere e l'onore di essere suo guardiano, ricordo il primo incontro con lui, mi abbracciò forte forte, mi disse padre guardiano, io fa tutto quello che gli vuole. Io ho detto Fra Modestino continuo a fare quello che stai facendo e lo fai bene e quindi anche col suo modo sereno, tranquillo, umile. Fra Modestino non era solito andare sopra le righe. Nel pentagramma della sua vita ha avuto sempre delle tonalità cantabili da tutti ed era la canzone di Dio che lui cantava agli altri. Tu ci hai portato quest'oggi un primo bel regalo, un vero e proprio album fotografico che cerco di condividere con gli amici telespettatori. Sono tante immagini con dei pensieri di ringraziamento. Ebbene l'intercessione nella preghiera di Fra Modestino è un altro dato importantissimo e grazie a questa intercessione ci sono tantissime belle testimonianze. Ce ne puoi raccontare qualcuna? Abbiamo nel materiale della vice postulazione due book fotografici che raccolgono delle foto di bimbi che secondo la scienza non sarebbero mai nati, però la vita è dono di Dio e tramite l'intercessione e la preghiera di Fra Modestino questi bimbi sono nati dando tanta gioia in tante famiglie. Questo è un dato importante, dicevamo l'accoglienza umile. Da Modestino andavano tanti che avevano problemi non solo di fede ma anche di vita, problemi esistenziali, anche tante mamme e lui parlava con il cuore di Dio. Ecco qui fra Modestino e il suo crocifisso, quanto bene ha fatto quel crocifisso. E parleremo anche di questo tra qualche istante. Queste foto non sono altro che dei segni, piccoli segni della preghiera efficace di Modestino soprattutto dinanzi alla croce delle estimate del coro di San Giovanni Rotondo, del nostro corretto di Santa Maria delle Grazie, dinanzi alla cui croce Padre Pio ha avuto le estimate. C'è questo legame dei luoghi, delle situazioni e Fra Modestino ha saputo leggere tutto questo in una logica di fede, non era superficiale. Fra Modestino era umile ma attento a ogni situazione puntuale e sapeva coltivare anche queste situazioni di bisogno. Torneremo su questi aspetti nel corso del nostro appuntamento che vuole essere anche una sorta di anello di congiunzione tra due momenti distinti. La prima serie del nostro programma è quella che sta per iniziare. Nel frattempo durante l'estate ci sono stati anche dei momenti ulteriori, momenti forti per tutta la Chiesa di festa e di approfondimento su alcune figure che abbiamo trattato anche nell'ambito della nostra rubrica. Penso ad esempio a Titus Brands ma dovremmo avere anche delle immagini adesso che riguarda proprio la canonizzazione di queste dieci figure di santità. Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucault, ancora Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santo Canale, Maria Domenica Mantovani. Ecco vediamo appunto queste immagini che riguardano la data del 15 maggio, giorno in cui in Piazza San Pietro c'è stata appunto questa canonizzazione di diverse figure. E a questo proposito vogliamo soffermarci proprio sulle parole che Papa Francesco ha voluto esprimere durante questa canonizzazione, soffermandosi sul tema dell'amore, l'amore che riceviamo dal Signore e la forza che trasforma la nostra vita. Ascoltiamolo. A me piace domandare alle persone che mi chiedono consiglio, dimmi, tu dai l'elemosina? Sì, padre, io do l'elemosina ai poveri. E quando tu dai l'elemosina tu tocca, tu tocchi la mano della persona o fai, butta l'elemosina e fai così per pulirti e diventano rossi. No, io non tocco. Quando tu dai l'elemosina, tu guardi agli occhi della persona che tu aiuti o guardi per un'altra parte? No, io non guardo. Toccare e guardare, toccare e guardare la carne di Cristo che soffre nei nostri fratelli, nelle nostre sorelle. È molto importante questo. E questo dare la vita è questo. La santità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore quotidiano. Sei una consacrata o un consacrato? Ci sono tanti oggi qui, eh? Sei una consacrata o un consacrato? Sì, santo e santa, vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato o sposata? Sì, santo e santa, amando e prendendoti cura di tuo marito e di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore, una donna lavoratore? Sì, santo, compiendo con està e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli e lottando per la giustizia dei tuoi compagni, perché non rimangano senza lavoro, perché abbiano sempre lo stipendio giusto. Sei genitore o nonna o nonno? Sì, santo, insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Dimmi, hai autorità? E qui c'è tanta gente che ha autorità. E vi domando, hai autorità? Sì, santo, lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. Questa è la strada della santità, così semplice, ma sempre guardare Gesù negli altri. Servire il Vangelo e i fratelli, offrire la propria vita senza tornaconto, questo è un secreto, offrire senza tornaconto, senza ricercare alcuna gloria mondana, a questo siamo chiamati anche noi. I nostri compagni di viaggio, oggi canonizzati, hanno vissuto così la santità, abbracciando con entusiasmo la loro vocazione, di sacerdote alcuni, di consacrata altre, di laico. Ci sono spessi per il Vangelo, hanno scoperto una gioia che non ha paragoni e sono diventati riflessi luminosi del Signore nella storia. Questo è un santo e una santa, un riflesso luminoso del Signore nella storia. Proviamoci anche noi, non è chiusa la strada della santità, è universale, è una chiamata per tutti noi, incomincia col Battesimo. Non è chiusa, proviamoci anche noi, perché ognuno di noi è chiamato alla santità, a una santità unica, irrepetibile. La santità è sempre originale, come diceva il Beato Carlo Dacutti, non c'è santità di fotocopia. La santità è originale, è la mia, è la tua, è la di uno di noi. È unica, è irrepetibile. Sì, il Signore ha un progetto di amore per ciascuno, ha un sogno per la tua vita, per la mia vita, per la vita di ognuno di noi. Cosa vuoi che vi dica? Portatelo avanti con voi. Mentre prosegue appunto l'Omelia del Santo Padre in questa canonizzazione del 15 maggio, ma abbiamo voluto offrirvi alcuni degli spunti che hanno caratterizzato tra l'altro proprio sinteticamente anche il nostro programma, l'amore per il prossimo, l'accoglienza senza voler niente dall'altro, per amore puro, un percorso di santità che andiamo ad approfondire tra un minuto, subito dopo la prossima pausa. E allora torniamo insieme con Padre Nazario per commentare anche un po' le parole che abbiamo poc'anzi ascoltato in questa sintesi dell'Omelia di Papa Francesco. Ha utilizzato delle parole che sono rivolte ai confratelli, ai sacerdoti, alle consacrate, ma anche ai laici che devono vivere questa vita, l'insegna dell'amore, una missione per tutti. Mi è piaciuto molto di Papa Francesco il suo modo di entrare in tutto lo specifico della Chiesa, consacrati, consacrate, sacerdoti, laici. E nella nostra spiritualità capucina, nella spiritualità di Padre Pio, questo legame è molto forte, no? E penso che proprio San Giovanni Rotondo è il luogo dove questa presenza di unione laici, sacerdoti laici, è molto evidente. Pensiamo alla casa sollievo della sofferenza, che Padre Pio ha voluto sulla roccia. E lì, penso ai due verbi che ha utilizzato Papa Francesco, toccare la carne sofferente di Cristo, guardare Gesù negli altri, senza tornaconto. È palese, è evidente, mi sembra veramente molto semplice applicare ciò che ci ha suggerito Papa Francesco a San Giovanni Rotondo, alla spiritualità di Padre Pio, alla spiritualità di Fran Modestino, alla casa sollievo. Cioè questo immergersi nella storia, mai essere oltre la storia, sopra la storia, sotto la storia, dentro la storia. E Padre Pio così ci fa degli uomini concreti, perché Gesù ha camminato in mezzo ai suoi, la Galilea, Gerusalemme, sono la Giudea, sono i luoghi dell'incontro. Gesù ci ha insegnato a incontrare, a toccare, a vedere, a entrare nelle storie degli altri. Questo ha fatto grande i nostri Santi, ha fatto grande Padre Pio, sono convinto, siamo sempre obbedienti a ciò che ci dirà la Chiesa, farà grande fra Modestino. Perché? Quando io pensavo e sentivo le parole di Papa Francesco, beh, da Modestino alla Portineria si andava con un carico di sofferenze. Ne potrei anche raccontare qualcuno se tu mi chiedi e c'è il tempo. Lui guardava con gli occhi oltre gli occhiali, guardava gli occhi dei suoi interlocutori, pure quando c'era tanta folla. E tante volte, no, mi è stato anche detto, perché io ascolto, ascolto molto anche delle testimonianze, no, 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 voglio proprio te, me, gente che nessuno mai avrebbe pensato di poter interloquire con Modestino, no, 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 mi interessi tu. E avvicinava a sé queste persone e gli diceva un messaggio che gli era suggerito dallo Spirito. Toccava con il suo crocifisso la fronte di questa gente. E questo è entrare nel profondo anche delle sofferenze e della vita dei suoi interlocutori. Padre Nazario, quando parliamo di sofferenza non possiamo non fare riferimento ad un'altra figura legata alla nostra grande famiglia Cappuccina, soprattutto di questa provincia religiosa. Parliamo di Genoveffa de Troia. Siamo in attesa di collegarci per parlarci anche di lei in questo giorno dedicato appunto all'esaltazione della Santa Croce con Fra Fortunato Grottola, un altro dei protagonisti della nostra rubrica. Ecco, in attesa di avere conferma del collegamento vogliamo soffermarci ancora un po' appunto sulla figura di Fra Modestino. Poi so che alla fine concluderemo. Ecco, voglio dare questo piccolo accenno ai nostri amici telespettatori con una bella sorpresa che ci hai portato per vivere anche al meglio poi il momento che precede la celebrazione eucaristica delle 11 e 30. Questo modo di accogliere dicevamo di Fra Modestino senza tornaconto utilizzando le parole del Santo Padre che si realizza in tante figure di santità che abbiamo imparato a conoscere. Ma con in più questa grande umiltà, come dicevamo all'inizio, che lascia davvero spiazzati di fronte ad un gigante di santità qual è Padre Pio, troviamo un suo piccolissimo figlio che ci dà un esempio così illuminante. Guarda, il discorso dell'umiltà di Modestino è andato avanti negli anni prima di San Giovanni Rotondo. Io resto sempre colpito da Modestino nella sua Pietrelcina. I superiori dopo averlo trasferito a Cerignola lo mandarono a Pietrelcina con il combito di questuante. Non era facile essere questuante. Quasi quasi la gente pensava che questo frate che non celebrava messa fosse un frate che non avesse qualità. Modestino aveva qualità come tanti nostri fratelli santi e i nostri fratelli laici. Nel nostro ordine cappuccino come nell'ordine francescano, tanti santi sono in maggioranza, sono i fratelli laici che sono stati sempre a contatto con la gente. Si sono fatti santi lungo le strade, si sono fatti santi nelle portinerie, si sono fatti santi nelle sacrestie, questi erano i compiti, o nelle cucine. E Fra Modestino ha vissuto anche l'impatto forte dell'incontro con la sua famiglia. Però è andato avanti, ha saputo stendere la mano, ha saputo riempire la sua sacca dove si prendeva, non so, il grano, la farina, la verdura. Eccolo qui, Fra Modestino con la sacca. E lui ha saputo con l'altra mano elevare al cielo la preghiera. Da un lato ha saputo stendere la mano, ma dall'altra ha pregato anche per tutti questi benefattori, in grande umiltà, anche mitigando il suo carattere forte. Fra Modestino non era un carattere molto semplice, ma era preciso sulle sue cose. Non era morbido nelle posizioni, anche quando ha dovuto dialogare faccia a faccia con padre Pio, ancora non frate, ha saputo dire la sua, ha saputo ribadire le sue posizioni, però mantenendo sempre il rispetto, sapendo mantenere la giusta posizione e avendo precisa la strada da seguire, che era proprio quella dell'umiltà. Ma nella scuola dell'umiltà si imbara ogni giorno, fino alla fine. Padre Nazio, abbiamo ancora qualche minuto prima di un'altra pausa pubblicitaria. Vorrei utilizzare questo tempo, innanzitutto, per dare ancora la possibilità, fra fortunato, di collegarsi con noi, ma anche per tornare su un altro appuntamento che ha caratterizzato questa estate, con la beatificazione di Giovanni Paolo I. Abbiamo le immagini, l'Omelia provò a sintetizzarla io del Santo Padre anche in questa circostanza. Il 4 settembre, nello specifico, Papa Giovanni Paolo I è diventato ufficialmente beato per la Chiesa Cattolica. Il rito della beatificazione per rabbino Luciani si è svolto in una piazza San Pietro gremita davanti a Papa Francesco e a numerose autorità istituzionali, compreso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio Giovanni Paolo I, Papa, d'ora in poi, sia chiamato beato. Questa è stata la formula che Papa Francesco ha utilizzato, levando così agli onori degli altari il beato Papa Albino Luciani. Papa Luciani, ha detto Papa Francesco, ha vissuto nella gioia del Vangelo senza compromessi, amando fino alla fine e ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria. Anche in questo caso ci ritroviamo con quanto stiamo dicendo proprio in questa puntata speciale di Verso gli Altari e vediamo le immagini di quella giornata recente, appunto il 4 settembre, ma una data sicuramente impressa nella storia della Chiesa universale. E di questi appuntamenti continueremo a darvi notizia anche attraverso servizi e immagini nel corso del nostro appuntamento verso gli altari. Ora ci fermiamo ancora per una pausa, poi verso la fine di questo nostro appuntamento la sorpresa di Padre Nazario. Torniamo insieme. Avete forse intravisto le prove tecniche per il collegamento con Fra Fortunato Grottola, che in questa giornata vuole essere anche un ponte tra le due realtà, San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, proprio all'inizio del novenario in suo onore. Ma siamo sempre in studio con Fra Nazario Vasciarelli perché abbiamo aperto questa parentesi sulla figura di Fra Modestino che ci accompagna proprio all'inizio del percorso della novena. La novena che ogni realtà, ovviamente, Cappuccina vive nella preghiera soprattutto. Anche tu sei impegnato, ricordiamolo. Come no. Io sono guardiano e parroco a Isernia e quindi stiamo preparando anche la novena. e quindi domani ufficialmente inizio io, ma già stasera uno dei miei confratti sarà proprio Fra Antonio Tartaglia, neo sacerdote, a guidare la riflessione questa sera. Dicevamo, Fra Nazario, che il collegamento con Fra Fortunato vuole essere anche un motivo per parlare di un'altra figura di santità che vogliamo proporre all'attenzione dei nostri amici telespettatori legata al tema della sofferenza. Ecco, lo vediamo. Adesso vediamo se abbiamo anche la possibilità di ascoltarlo in audio. Fra Fortunato, pace e bene, benvenuto tra noi. Pace e bene, saluti a tutti voi. Saluti agli telespettatori di Telepadre Pio. Eccoci, Fra Fortunato. Siamo all'inizio della novena e questo momento importante ci pone di fronte subito ad inizio di percorso il tema della croce e quindi della sofferenza. È come non parlare di Genoveffa de Troia che abbiamo imparato a conoscere nel corso del nostro appuntamento di Verso gli Altari, ma che quest'oggi vogliamo proporre appunto come spunto ulteriore per iniziare la novena. Qual è appunto l'insegnamento più grande che ci deriva da questa esperienza? Guardando Genoveffa de Troia, si ammira la semplicità di questa donna, ma nello stesso tempo la fortezza che di fronte alla sofferenza non dice sì, ma dice eccomi, sono tutto del Signore. Per me questo è molto importante perché fa sì che Genoveffa è coerente con questo messaggio. Si sente talmente unita al Signore che si pone continuamente nell'atteggiamento di una persona che incarna nella quotidianità Cristo sofferente. Non a caso, dice parecchie volte durante la giornata, la mattinata la dedico totalmente alle anime e la notte tutta al Signore. Capire il valore della sofferenza non è da parte di tutti, ma sono delle anime elette che nello stesso tempo hanno fatto delle scelte reali e concrete. E Genoveffa ha saputo dire sempre sì dall'età di cinque anni. Sì, fra fortunato. Abbiamo detto anche quando si è stato presente nel nostro programma delle sofferenze di Genoveffa che forse non riusciamo nemmeno ad esplicitare nel migliore dei modi, cose che umanamente sono anche impossibili da immaginare. Ma proprio in questo aspetto possiamo comprendere in effetti le nostre sofferenze quotidiane che talvolta sono un peso enorme per ciascuno di noi. Se prese con il giusto spirito, se prese con la grande fiducia nel Signore possono diventare delle grazie. È difficile dirlo, ma è questo il concetto che vogliamo far emergere. La prima cosa che emergeva in Genoveffa era la sua serenità spirituale. Ogni persona che riesce ad avere una sua serenità spirituale ed è convinto dalla presenza del Signore nella propria vita riesce a comunicare questa serenità. E la sofferenza occupa un posto importante nella sua vita perché in quella sofferenza vede la presenza del Signore che viene sulla terra per purificare ogni persona. quindi la prima cosa che noi dovremmo fare è saper accettare la realtà della nostra vita nella serenità interiore che ci deve venire proprio dalla preghiera da questa consapevolezza che il Signore è sempre con noi, continuamente con noi. Qual è il tuo augurio allora, in questo inizio di Novena, verso le persone che ci stanno seguendo e che purtroppo si trovano in una situazione che può essere di malattia, di sofferenza psicologica prendendo spunto proprio dalla figura di Genoveffa de Troia e dal significato della giornata odiena dal punto di vista liturgico. Genoveffa de Troia non era una persona colta era una persona che amava il Signore e nella sua semplicità ha saputo, tra virgolette, insegnare la pace interiore che scattuisce dal dì Sì, Signore, eccomi. Di fronte alle difficoltà della vita di fronte ai familiari che tante volte si ponevano in contrasto con lei lei ha sempre detto il Signore ci dà quello che Lui ritiene più giusto per la nostra vita la presenza del Signore nel nostro quotidiano deve essere il saper accettare tutto ciò che ci viene proprio dalla Sua croce che è risurrezione E questo è il messaggio forte che vogliamo lanciare da una realtà importante qual è quella di Pietrelcina anche grazie appunto all'esempio di Genoveffa de Troia grazie Fra Fortunato buon inizio di novena anche a te a voi tutti della comunità di Pietrelcina Grazie, grazie anche a voi tanti auguri Padre Nazario siamo verso la conclusione del nostro programma abbiamo ancora qualche minuto e vogliamo finalmente svelare ai nostri amici telespettatori qual è la sorpresa che ci hai riservato per parlare ancora di Fra Modestino ed uno degli aspetti appunto che lo hanno caratterizzato nel suo incontro con i pellegrini soprattutto Ed era proprio la croce Fra Modestino non tralasciava di salutare i tanti pellegrini che si recavano alla portineria se non segnandoli con il crocifisso e io ho questo dono in custodia il crocifisso di Fra Modestino e con una di quelle reliquie che lui aveva dalla Terra Santa c'era questo legame di Modestino con la Terra Santa lui ricordava in uno dei suoi quaderni proprio il suo pellegrinaggio in Terra Santa era immerso nella contemplazione dei luoghi di Nostro Signore e l'altro legame era con il suo maestro di vita Padre Pio e i suoi crocifissi erano tutti con una pezzuola ecco se fai vedere a favore di camera quella camera lì che hai di fronte a te così riusciamo a farla vedere questo crocifisso con la stoffa di una pezzuola di San Padre Pio quindi Padre Fra Modestino era solito poggiare questa pezzuola sulla fronte del penitente, l'amico, il confidente la persona che si rivolgeva a lui da un lato la reliquia di Terra Santa e poi la reliquia di Padre Pio che l'ha accompagnato in tutto il suo servizio fino al 2011 quando il Signore lo ha chiamato a sé Ecco Padre Nazario bastava anche soltanto questo gesto di accoglienza, di amore Padre Fra Modestino lo tirava sempre dalla tasca oggi mi sembra, mi sento un po' a disagio perché appartiene a lui allora io ce l'ho nella mia tasca dell'abito quindi tirar fuori il crocifisso per mostrarlo ai nostri telespettatori è bello per me è un servizio che voglio rendere non è ostentare nulla nel giorno della croce dopo il book fotografico i tanti nati grazie all'intercessione di Padre Pio di Fra Modestino ecco il crocifisso che ci accompagna anche all'inizio di questa lo tengo in vista così lo mostriamo meglio sì così facciamo questo dono ai nostri amici ai nostri spettatori e poi tu mi hai chiesto una cosa io lo voglio fare ci avviciniamo magari verso il centro dimmi se sto a buon gambo io te lo poggio sulla fronte e benedico te e benedicendo te benedico tutti i nostri spettatori di Padre Pio TV che ci stanno seguendo e che si preparano a vivere l'Eucalistia l'Eucalistia delle 11 e 30 che è questo momento fondamentale della nostra programmazione tra qualche minuto avremo proprio le immagini anche in diretta dalla Chiesa però approfittiamo per dare ancora degli spunti ma soprattutto un pensiero di benedizione ai nostri amici delle spettatori dicevamo poc'anzi con Fra Fortunato Grottola che sono tanti i nostri amici che ci seguono magari da un letto di sofferenza e oggi vogliamo innanzitutto pensare a loro e sull'esempio di Fra Modestino sull'esempio di Padre Pio cosa ti senti di poter dire loro? io sento di dire alla scuola di Fra Modestino di essere coraggiosi e generosi con il Signore perché il Signore ti dà la croce per come la puoi portare il Signore non ci carica mai oltre le nostre forze fisiche e spirituali Fra Modestino questo lo sapeva molto bene allora anche quando era il caso incontrava qualcuno di gente qualche peccatore qualche persona che ha bisogno di riconciliazione lui chiamava subito i sacerdoti mi ricordo anche nella mia esperienza di giovani sacerdoti io venivo spesso per aiutare soprattutto in questo periodo quando ero a Termoli come segretario della pastorale vocazionale oppure quando ero qui allora quando lui vedeva qualche caso importante qualcuno di noi frati più giovani passava e diceva Angioletto, Angioletto pesce grande, pesce grande allora ti consegnava un fratello, una sorella perché si avvicinassero al sacramento della riconciliazione e i suoi occhi erano gioiosi perché? perché aveva avvicinato un'altra pecorella tra virgolette smarrita al pastore che era il buon pastore l'unico grande buon pastore che è Gesù grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti